Cap 05 Deviazioni è una piccola rassegna, dico piccola perché abbiamo un low budget, quindi non è una grande cosa, di danza contemporanea che si svolgerà a Cattolica, al Salone Snapporaz, a Rimini al Teatro degli Atti e a San Giovanni Malignano al Teatro Massari. La prima è il 9, quindi venerdì questo, poi il 16 e il 30 novembre. In ogni serata ci saranno due brevi spettacoli di danza contemporanea, dico brevi, circa 30 minuti l'uno. Dopo gli spettacoli ci sarà un incontro con il pubblico, proprio perché noi ci teniamo a mettere in relazione l'artista con il pubblico e che il pubblico se lo desidera possa fare delle domande agli artisti, se vuole capire come hanno lavorato, insomma mille cose. Ci sono in relazione anche dei workshop che abbiamo attivato insieme ad alcune scuole di danza del territorio, perché la nostra idea, cioè quella del collettivo CAP che cura la direzione artistica di questo progetto, è proprio quella di cercare di diffondere la cultura della danza contemporanea nel nostro territorio e quindi di aprire diciamo uno sguardo sulla danza contemporanea. Quindi in questo senso il progetto è stato fortemente appoggiato dalla provincia e quindi insomma siamo contenti, anche se adesso un po' preoccupati per quello che succederà, speriamo che non sia disastroso. E si sono, come dire, attivate delle relazioni con i vari territori, quindi con Cattolica, con Rimini e con San Giovanni Marignano. Quindi questo per noi è importante che non sia solo in un posto, ma che sia in vari posti, proprio perché crediamo questa possibilità, insomma, sia di movimento delle persone sia di cercare di arrivare alle persone che magari non riescono a spostarsi agevolmente, insomma, nei vari spazi.